Si è svolto nel Centro Studi Giuridici ed Economici dell'Impresa Alta Irpina a Teora un interessante confronto dal tema Una ragione per restare l'Impresa Irpina tra opportunità europee e regionali. A discutere del fenomeno dello spopolamento e della fuga dall'Irpinia di molti giovani, il professore Gaetano Vecchione, che ha sottolineato l'importanza di tre elementi fondamentali perché i giovani facciano impresa in questa fetta del territorio. Infrastrutture, risorse umane e imprese. Penso che ci siano almeno due questioni che dobbiamo sollevare e cercare di affrontare risolvendole possibilmente. La prima riguarda un intervento strutturale verso Mezzogiorno, la Campania, la provincia di Avellino. Intervento strutturale intendo politiche pubbliche di sostegno e di maggiore attenzione a queste problematiche. Il secondo tema riguarda invece un aspetto un po' più culturale, se vogliamo. Spesso quando abbiamo a che fare con i giovani usiamo questo verbo, trattenere. Io penso che i giovani non vadano trattenuti. Oggi un giovane vuole legittimamente andarsi in giro per l'Italia o per il mondo da avere esperienze. Oggi il tema e la parola chiave deve essere attrarre. Quindi dobbiamo seriamente interrogarci come territori che tipo di iniziative, che tipo di attività proporre ai nostri giovani per evitare questo spopolamento e questa tremenda emorragia che ci caratterizza da almeno un paio di decenni. Cosa il nostro territorio può offrire ai giovani per trattenerli? Il giovane ha bisogno di formazione. Io vengo dal mondo universitario quindi sono di parte da questo punto di vista, però è evidente che la prima cosa che noi dobbiamo essere in grado di offrire stando attenti alla vocazione territoriale è una formazione di alto livello che va dalla scuola, ovviamente all'università e magari anche con programmi post laurea di alto profilo. C'è stato negli ultimi vent'anni un disinvestimento pubblico incredibile. Tutti i paesi Ocse, diciamo i più economicamente più avanzati, hanno investito e aumentato del 30-40% le risorse pubbliche per il settore education qui dalla scuola all'università. Noi, Italia, negli ultimi vent'anni abbiamo diminuito del 20%. Allora c'è un qualcosa che si è rotto in questo meccanismo e sul quale dobbiamo intervenire con urgenza. Qualche ragione per restare qui in Irpinia nel nostro territorio ai giovani? Io sicuramente, e lo dico in maniera convinta, sono uno di quelli che dice ormai non è più tempo di elencare le bellezze che noi abbiamo. Spesso presi dall'affetto, dal sentimento, diciamo che abbiamo il verde, la spensieratezza, che i nostri posti sono incontaminati, va bene anche questo, ma non può più bastare. Io ho detto poc'anzi che invece bisogna attraverso i numeri, attraverso lo studio, attraverso la conoscenza, e oggi è un'occasione importante, capire e farci guidare verso un'idea di sviluppo che deve essere attrattore vero di questi posti. Lo ripeto spesso, lo dirò anche adesso, noi abbiamo un grande orgoglio noi Irpini, però spesso pensiamo che le nostre comunità siano il centro del mondo, il mondo in un altro posto, a una velocità molto, molto, molto più pressante della nostra. Noi dobbiamo trovare motivi, elementi, vetrine, personaggi, persone, associazioni, occasioni come queste per dire al mondo che ci siamo e per dire al mondo che da queste parti si può fare perché no impresa, perché da queste parti si può fare sviluppo, perché da queste parti non c'è solo rassegnazione, ma c'è la voglia di diventare faro per un'Italia che ha bisogno anche di noi.